Ampio turnover nel Montone, ma gara mai in discussione, la differenza in questi casi la fanno gli stimoli. La Castiglionese Macchie già salva, non aveva più niente da chiedere a questo campionato. Il Montone doveva vincere per consolidare il terzo posto. Buona posizione questa per disputare i play-off. Pronti via e Montone in vantaggio. Ceppo Domo svestiva momentaneamente i panni di Bomber, mettendo quelli di assist man. Il passaggio per il Bebi a Sali era millimetrico, altrettanto preciso era il diagonale con il quale il giovane attaccante batteva imperabilmente Pieretti. Passavano tre minuti e c'era il bis con Ceppo Domo che rimetteva i panni da Bomber e ben lanciato dalle retrovie. Saltava anche l'estremo difensore ospite prima di mettere in fondo al sacco. Così al quarto d'ora la partita era già chiusa, anche perché la Castiglionese Macchie non riusciva a costruire niente di che e il Montone si limitava al pieno controllo della gara. E alla mezz'ora Ceppo Domo si faceva ipnotizzare da Pieretti in uscita, gettando alle ortiche una buona occasione per fare il tris. Al quarantesimo brividi per la difesa di casa. Quando Silvestri era bravo a pescare Favaroni sul quale Catana compiva una grande parata, deviando la palla fuori in calcio d'angolo, dagli sviluppi del quale Spatoloni colpiva di testa a botta sicura, ma ancora una volta Catana era provvidenziale alla deviazione con il risultato che non cambiava. Si passava così al secondo tempo, la Castiglionese Macchie al terzo accorciava il risultato, cross di Memai per il colpo di testa in tuffo di Favaroni che batteva Catana. Al quinto Castiglionese Macchie vicinissimo al pareggio con Bussolini, il tiro del quale risultava essere debole e prevedibile, Catana respingeva con i piedi. Poi la raffica di gol finale, al dodicesimo il montone calava il tris, palla in aria per Cepodomo che se l'aggiustava e non sbagliava la sua doppietta personale. Ma al diciottesimo la Castiglionese Macchie accorciava nuovamente con Aisenai che sul filo del fuorigioco batteva con un perfetto diagonale l'incolpevole Catana. Al ventiduesimo Mencai pescava Cepodomo, il suo diagonale era potente e preciso, palo gol e 4-2 per il montone. Infine al ventiquattresimo Memai saltava Catana in uscita depositando in rete il terzo gol per la Castiglionese Macchie. La gara terminava quindi sul 4-3, montone ai play-off promozione traguardo storico, mai raggiunto fino ad ora. Domenica prossima la semifinale in casa contro le Fontanelle Branca, la squadra di Borgo per andare avanti ha disponibili due risultati su tre. Sì, diciamo che oggi abbiamo finito il campionato, l'abbiamo penso finito nel migliore dei modi perché è a ridosso delle due squadre potenzialmente costruite per vincere, anche se ce n'era qualcun'altra. Però io penso di essere soddisfatto fino ad oggi perché chiudere al terzo posto dà soddisfazione a una società, a un paese e a tutti i giocatori. Adesso ci giochiamo domenica la prima dei play-off, venderemo chiaro cara la pelle anche perché ora stiamo attraversando un sogno, speriamo di svegliarci probabilmente magari fra due domeniche con qualcosa di positivo. Il nostro obiettivo era la salvezza, abbiamo raggiunto due domeniche fa, oggi siamo venuti un po' rimaneggiati, partita di fine campionato, quindi c'è sta. Adesso per il futuro? Per il futuro vediamo, speriamo di tutto procedere, ci rivedremo il prossimo anno.